Erwin Zeuscher Allora, iniziamo con i bassotti Allora, bassotto standard, pelo corto Bassotto standard, pelo lungo Bassotto standard, pelo duro Bassotto nano, pelo corto Nano, pelo duro Caninken, pelo corto Caninken, pelo duro Allora, bassotti Tre taglie Tre tipi di pelo Standard Nano e Caninken Pelo duro, pelo corto Appelo lungo La taglia Allora, la taglia viene stabilita in base alla circonferenza toracica Non in base all'altezza algarrese Allora, il giudice li ha già visti prima Ha già selezionato i tre Allora, quindi se non sbaglio c'è lo standard a pelo duro Il nano a pelo corto E il nano a pelo duro Ok Abbiamo già il podio qui Ok Bassotto standard, pelo duro La taglia più grande Bassotto nano, pelo corto Bassotto nano, pelo corto Bassotto nano, pelo duro Bassotto nano, pelo corto ok allora terzo posto bassotto standard pelo duro secondo posto bassotto nano pelo corto vince bassotto nano pelo duro bassotto nano bassottoogi